Don Adoni risponde con garbo, zittisce o almeno ci prova tutte le polemiche. In realtà non ci riesce l'allenatore bergamasco. Le parole di De Laurentiis da Sorrento rimbommano fino a Castelvulturno. Pur confermandogli la stima, io ho detto di fare soltanto l'allenatore. Si è intromesso in alcune trattative complicandole. Il mercato lo facciamo io e Marino, ha detto Don Aurelio. Chiaro il riferimento a Flocari, così come a Cassano. La telefonata al primo, che poi ha preferito il Genoa, e la visita al ritiro del Piacenza al secondo sono iniziative che sia il presidente sia il DG non hanno per nulla gradito. E allora via con le dichiarazioni per stemperare i toni. Il tecnico azzurro si è affidato al sito ufficiale del club. C'è grande sintonia sui programmi futuri, ho un ottimo rapporto con il presidente De Laurentiis, ha detto il tecnico, e lavoriamo in piena armonia. C'è un programma da portare avanti insieme al direttore generale Pierpaolo Marino e lo stiamo facendo tutti in assoluta sintonia. Manca invece una replica di Lavezzi. Il pocio in Argentina avrà sicuramente saputo dell'esternazione di De Laurentiis sulla sua vita notturna. Alcol, Ferrari e prostitute, secondo il presidente. Un colpo tremendo di quelli intesi comunque a non voler vendere il giocatore. Frasi volte a deprezzare il cartellino, vero e proprio repellente per le società interessate, a patto che ce ne sia qualcuna.